Ciao, lei è sua Paola, la nuova dall'Italia. Di che vuoi parlare? Due settimane qui dentro. Se solo ste puttane mi lasciassero uscire. Tutte già conoscete la parabola del pastore che lascia andare 99 pecore per poter riavere quella perduta. Tranquilla, va tutto bene. Oggi preghiamo insieme per la nostra Luciana. Mamma mia. Giuro che non mi sono accorta di nulla. Mi sono svegliata e non c'era più. Se vuoi proteggere Luciana, serve che tu ci dica quello che sai. E tu che cazzo ci fai qua? Sempre qui in camera mia? Grazie. 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 Grazie.